Ciao amici, è arrivato il freddo ma siamo ancora in tempo per una strategia d'attacco, cioè una strategia di prevenzione contro i classici antipatici disturbi di stagione. Ecco, mi serviva proprio. Vediamo le risposte della natura. Alcune piante officinali sono utili per proteggerci contro microbi e virus tipici dell'inverno, quelli che ci fanno venire raffreddore, mal di gola e influenza. Se vi piace l'idea di fare prevenzione con la natura, ditemelo subito con il vostro mi piace a questo video. E ora, ecco le piante che stimolano le difese naturali e assicurano un inverno sereno, aiutando il sistema immunitario a superare le insidie del freddo. Echinacea è la pianta più specifica grazie alla capacità di alzare le difese immunitarie. La sua radice aiuta a prevenire i disturbi delle alte vie respiratorie e fa prevenzione contro il raffreddore, come riscontrato da una ricerca dell'Università del Connecticut. Cipresso, non tutti lo sanno, ma è una pianta antivirale e contiene tannini che decongestionano le mucose delle vie respiratorie e prevengono la proliferazione dei microbi. Associato all'echinacea, diventa un buon alleato delle difese immunitarie. Olivello spinoso, contiene flavonoidi che aumentano la resistenza e aiutano ad affrontare il freddo. La sua concentrazione di vitamina C è 5 volte superiore a quella del kiwi, così accelera la produzione di anticorpi e ci mantiene pronti contro virus e batteri. Rosmarino, questa pianta mediterranea non solo è un tonico per i momenti di stanchezza, ma contiene anche oli essenziali vitalizzanti e anti-infettivi, che aumentano l'immunità agendo in modo efficace su diversi ceppi batterici. Astragalo, astrache, è una pianta di origine cinese. Secondo alcune ricerche, rafforza il sistema immunitario, ha una concentrazione molto elevata di saponine e polisaccaridi tonificanti e aumenta gli anticorpi nella mucosa nasale dei soggetti sensibili al raffreddore. Ma come si prendono queste piante? Si assumono in forma erboristica, iniziando subito per fare prevenzione, oppure come aiuto e sostegno alle cure tradizionali quando sono necessarie. Per vedere tanti altri miei video sui rimedi naturali, andate sulla playlist dedicata e mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella delle notifiche, così non perdete nessuno dei miei video con consigli e strategie naturali ogni giorno. Vivi consapevole e vivi meglio. Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri e ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!